Lunedì 29 marzo abbiamo firmato presso la sede legale dell'area Vasta 1 l'accordo per il riconoscimento del cosiddetto premio Covid, riferito alla prima ondata del contagio del marzo-maggio 2020 a tutti i dipendenti del comparto dell'area Vasta 1. Abbiamo firmato questo accordo avendo ben presente che purtroppo i lavoratori dell'area Vasta 1 erano gli ultimi a ricevere tale incentivo economico perché in tutta la regione Marche i colleghi delle altre aziende dell'area Vasta l'avevano già percepito. L'abbiamo fatto con grande senso di responsabilità per non penalizzare ulteriormente i dipendenti dell'area Vasta 1 nonostante le risorse aggiuntive regionali erano insufficienti a corrispondere un premio dignitoso a tutti quei dipendenti che hanno dato il proprio contributo e si sono sacrificati per combattere e stanno combattendo ancora il Covid. Perché questo? Perché le risorse stanziate a livello regionale, circa 330 mila euro, erano insufficienti. Abbiamo unitariamente organizzazioni sindacali fatto diverse iniziative tra cui anche due state digitazioni e siamo stati ricevuti due volte dal prefetto di Pesaro Urbino in tal senso. Nonostante questo abbiamo incontrato una rigidità elevata nel riconoscere ulteriori risorse. Il senso di responsabilità che abbiamo mostrato è quello di riconoscere attraverso delle somme, dei residui, dei risparmi in area Vasta 1 di corrispondere un premio ai dipendenti andando ad aggiungere questi residui ai 330 mila euro per corrispondere ai circa 1.800 dipendenti dell'area Vasta 1 con un premio, ripeto, dignitoso, che verrà corrisposto, noi ci auguriamo, con la busta paga di aprile e sarà di circa 750 euro l'orde pro capite per ogni dipendente collocato in prima fascia di rischio in pratica per tutti quei dipendenti che hanno lavorato direttamente a contatto col Covid nei reparti appunto creati per il Covid di 500 euro per tutti gli altri dipendenti collocati in fascia 2, ovvero quelli che hanno collaborato e sono stati a supporto appunto dei reparti delle aree Covid e in terza fascia di rischio circa 300 euro l'orde pro capite per il resto dei dipendenti come ad esempio i dipendenti che hanno lavorato nei front office, nei servizi di laboratorio analisi, radiologia solo per citarne alcuni, che comunque hanno garantito la continuazione dei servizi appunto in presenza